... ... ... ... Il gioc siciliano è l'assistotto a Syunie tra l'altro con la pallamaria Francesco Guarino lo sta facendo le pantole copertiche nel pieno sapanese sicuramente bisogna offrire gli ind tällamenti per garantire con una certa continuità soprattutto è cercato di dare la palla sotto Venesco Basilico, anche questa sera in zona del Piazza. La transizione del Trabani con le mangelistiche serve, il numero 5, il quinto punto, il prossimo passivo, il Trabani che si è portato su Piazza. E' un plato per il suo motore che ci sta facendo trovare al posto giusto, nel momento giusto. Adesso c'è Francesco Masei, come dava l'interporto, c'è Gena, scarica per Pacei, che riscarica sotto per Masei nel suo ufficio. Ovviamente, se avessi il fallo da Francesco Guaio, probabilmente erai in posizione per andare a fallo in un scherzo, ma adesso non è il problema, due giri dentro della mia barra. Grazie. Francesco Basilico è pronto per questi due equilibri. Final, 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 Francesco Basilico. Il docesimo punto per la vieta ex Rozzano, che tra l'altro, nonostante sai, ha avuto anche la tua esperienza in Eurolega, con quella che era la Montepaschisiena, adesso ottiene il secondo libro. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Sì, guarda, 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 guarda. Sì, guarda. Sì, guarda, 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 guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì. Guarda. Sì, guarda. Sì. Sì. Sì, guarda.